Ok vi avevo promesso l'analisi di SmackDown ma era una puntata registrata settimana scorsa pensavo annunciassero qualcosa magari con dei promo nel backstage anche quelli registrati ma chiaramente non mandati in onda live dall'arena invece è stato tutto abbastanza lineare, regolare e dunque ho evitato di fare un'analisi di una puntata per cui i risultati si sapevano già sostanzialmente Quindi passiamo ad Elimination Chamber Un Elimination Chamber che si è aperta col kickoff tra le Kabuki Warriors e Indy Artwell e Candice Larè per i titoli di coppia femminili Match ovviamente vinto dalle compagne di Yo Sky dopo 7-8 minuti Non una contesa memorabile Hanno lasciato la passerella di Indy Artwell perché è wrestler australiana Così da scaldare un po' il pubblico Indy che è stata anche abbastanza over chiaramente davanti ai propri tifosi Una contesa onesta vittoria per le Kabuki grazie all'insane elbow Alla mossa combinata tra Asuka e Kairi Sane E quindi possiamo passare allo show vero e proprio Show vero e proprio che si è aperto con l'Elimination Chamber femminile Che posso dire di aver preferito a quella maschile Spoiler Comunque risultato scontatissimo Ha vinto Becky Lynch Nonostante la vera MVP Credo sia stata Tiffany Stretton Che si è comportata benissimo Anche se nel finale è rimasta Liv Morgan A competere con D-Man per il posto a WrestleMania contro o Rhea Ripley o Nia Jax La vittoria dell'irlandese era scritta L'ho detto nei pronostici L'ho detto anche settimane fa Ce l'hanno teaserata per diverso tempo Addirittura alla conferenza stampa c'era stata il faccia a faccia Tra Rhea Ripley e Becky Lynch nonostante ci fosse di mezzo Elimination Chamber E quindi penso sia anche giusto che abbia vinto lei Perché è l'unica oggettivamente che abbia una mini storia con la campionessa di Raw C'era Liv Morgan potenzialmente Ma è appena tornata e poi non ha lo star power Per andare nel match titolato di Vrestelmania Purtroppo sia per questo match che per quello maschile C'è stato il sentore di Non potranno fare nulla di nuovo per stupirci dentro l'Elimination Chamber Si sbattono sulle catene, sui pod Volano dalla camera con qualche tuffo Ma è roba vista e già vista Non è Coffee Kingston che si arrampica fino al tetto Mettiamola così E infatti non mi ha particolarmente emozionato È stata una buona contesa Giù il cappello per queste atlete che si sono spaccate Dentro un match così pericoloso Ma tutto lì Match per i titoli di coppia Judgment Day contro New Catch Ma British Strong Style era molto più figo Un match che è durato davvero un sacco Quasi 20 minuti E che ha visto il Judgment Day riuscire nell'impresa Di difendere le proprie cinture E presumibilmente arriveranno a Vrestelmania da campioni Vedremo se contro Hartruth e Demitz L'incontro è stato sicuramente di buona qualità Di alto livello Un tag team match che poteva tranquillamente chiudere una puntata settimanale Invece lo abbiamo avuto in pay per view Costruito, non dico per caso Perché c'è stato il match di qualificazione Che ha visto Dan e Tyler Bate Ottenere una shot Però non c'era un trascorso vero e proprio tra i due team Quindi immaginare un cambio di titolo sarebbe stato un azzardo Così non è stato infatti A mio modo di vedere la contesa si è anche protratta un po' troppo Perché ok l'azione, ok l'intensità, ok sono tutti e quattro degli ottimi performer Però senza una vera e propria logica e storia dietro Quasi 20 minuti possono risultare un po' pesanti Sono sicuro però che i due britannici potranno dire la loro Nella divisione tag a partire dal post-Vrestelmania Spero che decidano di tenerli insieme Soprattutto credo anche che la divisione si stia riempiendo di ottime coppie Come loro, come i DIY Adesso vedremo cosa vogliono fare con Saddick Alexander e Ashantity Adonis Comunque sia è una scena di coppia come detto Che mi intriga, mi gasa Ci sono anche gli Street Profits volendo Grayson Waller Effect Speciale per questo Prima un live event in Australia Perché Grayson Waller è ovviamente australiano Con la presenza di Austin Theory che ha insultato un po' il cibo locale E poi l'arrivo di Seth Rollins e Cody Rhodes Cody Rhodes over come non lo so davvero I Pokémon volante in un determinato ventennio Rollins ha offerto comunque uno scoop Ha detto che tra poco sarà pronto a tornare sul ring Perché è quasi guarito dall'infortunio al ginocchio Cody Rhodes ha invece sfidato The Rock ad un match uno contro uno Rollins ha detto che vuole spalleggiare Cody durante questa contesa E poi sono partite le mazzate per Theory Con Seth Rollins che addirittura ha messo a segno il Corbstomp Quindi sta bene Grande annuncio sparato da AAA C'è Cody che sfida The Rock E Rollins che è quasi ok col ginocchio sostanzialmente Elimination Chamber maschile E come detto prima ho preferito forse la controparte femminile Perché questo match è stato salvato dal talento e dallo status degli atleti presenti in questa contesa Però non ha offerto chissà che I momenti più belli credo siano stati quelli di Bobby Lashley che sfonda i pod Ma nulla di eccezionale Anche questo match ovviamente scontatissimo McIntyre è riuscito a vincere grazie a Logan Paul Perché lo youtuber è stato eliminato dall'archeio di Randy Orton Che poi ha messo a segno la sua manovra anche su Drew McIntyre Sembrava in procinto di vincere Ma Logan Paul col tirapugna ha steso l'Apex Predator Vendicandosi dell'eliminazione E permettendo allo scozzese di venire proiettato nel match per il titolo di Seth Rollins A Wrestlemania a 40 E questo probabilmente ci suggerisce anche un Randy Orton contro Logan Paul per Wrestlemania Suppongo Tanta roba per lo youtuber sfidare una leggenda del genere E anche il campione degli Stati Uniti Quindi per carità Speravo vincesse Logan Paul per vederlo doppio campione Ma purtroppo non è accaduto No no a parte gli scherzi Mi impressiona sempre quanto naturale sia il comportamento di Logan Paul Cioè è perfetto in WWE Può starvi sulle palle Ok ha filmato un cadavere Ok ha scammato una decina di migliaia di persone Però dentro lì ci sta perfettamente Cioè sembra sia nato per fare l'entertainer anche nel mondo del wrestling Abbiamo poi avuto Styles Che è entrato nella gabbia per massacrare LA Knight Facendolo eliminare Quindi presumo anche uno Styles contro LA Knight in vista di Wrestlemania E per il resto poca roba davvero Niente di memorabile Cioè la cosa più emozionante è stata Logan Paul che prende in giro Kevin Owens col pennarello sul pod Secondo me Main event di serata Nia Jax contro Rhea Ripley Capisco che Rhea sia super over Non mi aspettavo di vederla ficcata nel main event Addirittura soprattutto contro Nia Jax Invece così è stato Ovviamente ha vinto la Mami Grazie alla sua Riptide dopo un quarto d'ora Però a parte il finale Il resto del match Bella l'atmosfera per carità Ma che due palle Hanno cercato comunque di mantenere l'aura di Nia Jax come distruttrice Più o meno ci sono riusciti Ma non la vedrò mai come una minaccia credibile per un titolo E voglio ben sperare che rimanga così questa mia impressione Dunque ragazzi Un'elimination chamber a mio modo di vedere troppo scontata E anche i match nei gabbioni non sono stati nulla di che Le restanti contese men che meno È stato un bello spot per il pubblico australiano Cioè immedesimandomi in loro Avere un'elimination chamber a Milano mi farebbe impazzire Nonostante i risultati e la qualità dei match Però da occhio esterno L'unica cosa che posso salvare è l'orario in cui è andato in onda Perché alle 11 del mattino è un bijou Non dico che gli incontri siano stati terribili Però si sono lasciati guardare Senza particolari sorprese Senza emozioni E la prevedibilità di questo evento Li fa perdere tanti voti Secondo me Fatemi sapere voi questo sotto nei commenti Invece cosa ne pensate Dal vostro Certified Way Tutto anche per oggi Ci sentiamo martedì con l'analisi di Raw Non posso far altro che salutarvi con il solito E calorosissimo Ciao Ciao